zero benvenuti in questa diretta un po' anomala perché oggi al posto che fare le solite domande eccetera presentiamo il mio nuovo talk show crypto che è fatto in collaborazione con Cryptoland di cui Lucrezia è CEO e fondatrice quindi io per prima cosa prima di addentrarci e di spiegarvi un po' come funziona vorrei fare qualche domanda a Lucrezia perché non è mai venuta sul mio canale e quindi ti chiederei un attimo di presentarti di dirci chi sei e cosa fai certo allora prima di tutto buonasera a tutti grazie Marco per questo invito ed è la prima volta che ci vediamo ma penso che diventerà un po' più frequente la cosa come dicevi tu io sono la CEO e la co-founder di Cryptoland che è un media di divulgazione ambito crypto, web3 e tech che è stato lanciato due anni fa più o meno noi ci siamo presi diciamo la mission di riuscire a parlare di crypto e di blockchain in maniera comprensibile e approcciabile da tutti sono due anni che lo facciamo abbiamo uno dei podcast più ascoltati su questo argomento in Italia e adesso a quanto pare inizieremo anche con delle nuove avventure certo e guarda prima di nuovo di spiegare bene di cosa si tratta niente invece volevo farti qualche domanda sul tuo più che altro mi interessa sapere come ti sei appassionata a queste cose perché non è comune che ci sia passione alle criptovalute certo allora in realtà risale tutto al 2017 che è l'anno in cui io mi sono trasferita a Toronto per circa un anno e io ho sempre lavorato nell'ambito della comunicazione e del digital marketing e lo facevo per le aziende del mondo web 2 e quando sono diciamo arrivata a Toronto mi sono trovata all'interno di una compagnia di persone che lavoravano tutte nel settore tech e trattandosi che il periodo era proprio il 2017 quindi piena bull run in quel periodo c'era una gran febbre cripto tutte queste persone erano interessate alle cripto quindi un po' per necessità, un po' per interesse personale ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo e ho capito che il lavoro che io facevo quindi comunicazione, community management creazione di contenuti, social media marketing poteva essere fatto per le aziende del web 3 e quindi diciamo ho iniziato a collaborare con aziende che appartenevano a questo settore fino a quando poi appunto due anni fa non è nato Cryptoland proprio diciamo dalla volontà di dire invece di farlo per gli altri facciamolo per una cosa in cui io e i miei diciamo due soci in cui crediamo e che portiamo avanti ecco ma allora una domanda te la devo fare ma tu cosa ne pensi di questo non solo, non tanto del settore cripto ma proprio della rivoluzione delle criptovalute quanto credi che sia profonda questa rivoluzione? Allora io ho una visione un po' romantica diciamo di tutto questo movimento nel senso che ovviamente c'è tanta speculazione c'è tanto interesse finanziario è uno strumento finanziario quindi prima di tutto nasce come quello però al di là dello speculazione a me quello che piace tanto delle cripto, il web 3, la tecnologia blockchain e tutto quanto è proprio il fatto di democratizzare uno strumento che fino ad oggi non poteva essere democratizzato che è quello della finanza quindi diciamo rendere accessibile la finanza a chi magari in precedenza non aveva accesso a questo genere di strumento ovviamente diciamo che uno degli aspetti per cui adesso viene più riconosciuto questo mondo ed è più conosciuto è sicuramente la speculazione però io credo anche tanto nella divulgazione proprio per diciamo anche andare a far conoscere questo settore al di là di quello perché comunque le possibilità che apre le opportunità che ha aperto sono veramente tante e secondo me siamo solo all'inizio nel senso che ne stiamo vedendo veramente solo la punta dell'iceberg e pian pianino diventerà sempre diciamo più veloce il progresso di quello che andremo a vedere e di come la blockchain, le cripto, il web 3 riusciranno diciamo a cambiare tutti i vari settori dell'economia Ecco ma tu come me non hai esperienza in campo finanziario oppure tu invece ce l'hai l'esperienza in campo finanziario? Allora io da quando poi mi sono avvicinata alle cripto ovviamente ho iniziato ad acquistare ho iniziato a fare il mio wallet a comprare le mie cosine io non sono una trader attiva lo dico sempre anche perché proprio emotivamente parlando non ho la tempra per poter gestire tutto quello stress ci ho provato qualche volta magari sai facendo un po' di questo di quel trading che investi un pochino e vedi di entrare e uscire velocemente ma proprio non riesco a gestire emotivamente quelle situazioni perciò io ho diciamo i miei asset che acquisto non vengo dalla finanza tradizionale perché appunto io ho studiato diciamo all'università ho studiato giornalismo, comunicazione e marketing però è un mondo a cui appunto poi mi sono avvicinata successivamente nel mio percorso E qui infatti noi durante i talk show io e te parleremo di comunicazione che è il nostro mestiere e invece avremo gli altri in finanza perché giustamente ognuno fa il suo mestiere il nostro mestiere esatto per quello si chiamano gli esperti così ci raccontano la loro diciamo conoscenza e quello che hanno acquisito nei loro anni di esperienza allora io adesso vi racconto un po' qual è la nostra idea e in particolare proprio quello che dicevamo adesso cioè la mia idea è quella di invitare a questo talk show che come vedete l'ho chiamato Cryptalk.it ho messo il logo perché ho creato anche un sito Cryptalk.it così ci sono tutte le informazioni chi vuole andare solo a vedere eccetera un sito l'ho fatto io veloce e non è niente di che poi dopo vi spiego anche il perché quindi vi dicevo la nostra idea è quella di invitare degli esperti a parlare seriamente di queste cose ci saremo io e Lucrezia che gli facciamo le domande e poi anzi Lucrezia presenterà il talk show poi io farò le domande e in particolare daremo la possibilità agli spettatori come adesso come durante tutto le mie dirette di fare di scrivere le loro domande in chat tra l'altro se volete scriverci qualche domanda fatelo pure sia a me che a Lucrezia però la cosa importante è che poi quando ci saranno gli ospiti noi diciamo così ve li porteremo e voi potrete chiedergli che cosa volete poi cercheremo di invitare gli ospiti quanto più esperti possibili e la mia idea è quella di dedicare molto spazio proprio all'attualità cioè alle cose che vi interessano di più allora proprio per questo motivo io vi chiederei già adesso se volete in chat oppure via email come al solito infochiocciolamarcoacavicchioli.it di scrivermi chi vorreste che noi invitassimo come ospite cioè ragionate in questo modo c'è qualcuno a cui vorreste fare delle domande e che vi risponda in diretta ecco allora segnalatecelo così noi proveremo a invitarlo poi ovviamente dipenderà se avrà disponibilità eccetera c'è un'unica limitazione che è il fatto che in questo momento deve essere qualcuno che parla l'italiano perché non siamo strutturati per gestire in multilingua perché sarebbe sarebbe un casino tant'è che a dire il vero allora il talk show inizierà martedì 7 maggio quindi non il prossimo quello dopo ok alle 20 e 30 e però diciamo che per i primi tempi i primi tre mesi maggio giugno luglio io ho pensato di diciamo così organizzarlo di di crearlo come fosse una stagione zero cioè tre mesi un po' di di beta test ecco diciamo così in cui vedremo come viene fuori fanno degli esperimenti chiameremo qualcuno eccetera e poi la vera e propria prima stagione dovrebbe iniziare a settembre quando avremmo raccolto feedback avremmo iniziato a capire meglio come funziona eccetera perché poi insomma questa cosa all'inizio non è detto che sia tutto perfetto ovviamente noi ci proviamo vediamo cosa viene e poi la miglioriamo nel corso del tempo quindi iniziate a mandarci le domande scusate non le domande le segnalazioni degli ospiti che vorreste avere e magari anche degli argomenti che volete trattare ad esempio se qualcuno di voi non sa chi potrebbe rispondere ma è interessato come ne so ai temi fiscali piuttosto di quelli tecnologici qualsiasi cosa voi me lo segnalate o oggi in chat oppure via mail a info chiocciola marcochavicchieri.it e poi noi cercheremo di invitarlo e poi di fargli le domande ci adopereremo come dicevo prima io e Lucrezia faremo quello facciamo le domande quindi siamo qua per darvi modo o di fare le domande noi oppure di girare le vostre le vostre domande tra l'altro vedo che c'è già qualcuno che sta dicendo qualche cosa in chat ecco ovviamente uno che una persona che è gettonatissima è Giacomo Zucco per forza di cose direi certo certo tutti quelli che hanno visto la volta Giacomo Zucco sono rimasti è sempre uno dei primi nomi che viene fuori è proprio poi è proprio come dire c'è proprio non so come dire la capacità di intrattenere ma dicendo cose sempre estremamente seri sì sì ah poi ecco qualcuno ad esempio mi suggerisce di chiamare Massimo Rea una cosa che non vedete e che invece vi aggiungo adesso è che in realtà gli appuntamenti con il talk show saranno due nel senso che il primo quello del martedì sera con Lucrezia con gli ospiti che è un vero talk show noi però tutti i mercoledì cioè il giorno dopo ci saremo io e un analista quindi non sarà un vero talk show saremo io e un analista insieme che analizziamo le cose di cui si è parlato il giorno prima perché in diretta durante il talk show non è che possiamo metterci a fare analisi di grafici prezzi eccetera poi la diretta durerà un'ora sembra tanto ma non è tantissimo e quindi ci prendiamo poi un'ora di tempo con calma il giorno dopo io inviterò Massimo Rea sarà uno sicuramente di quello che che inviterò per mettersi a fare l'analisi o meglio per far sì che io gli chieda di fare l'analisi perché io non sono capace è certo che qualcuno dice Satoshi Nakamoto e lo so che sarebbe bello se intervistassimo Satoshi prima però bisogna sapere chi è se riesce a darci il contatto poi noi ci muoviamo poi bisogna sperare che sia ancora vivo perché sai magari uno scopre sono nel 2011 sono 13 anni che scoparsi 13 anni e dopo 13 anni direi che un po' difficile comunque va bene andiamo avanti ecco poi qualcuno suggerisce Luca Boiardi sì Luca lo inviterò sicuramente tanto l'avete visto lo invito spessissimo e una volta verrà sicuramente anche lui Gigi Ballarani che Lucrezza conosce quindi lo inviteremo che è uno dei soci di Cryptoland quindi verrà invitato per forza Gigi esatto qualcuno suggerisce Massimo Saracini io non lo conosco tu no nemmeno io no nemmeno io sai dateci qualche informazione in più perché oh io poi vabbè dovete sapere che io non ho una gran memoria e soprattutto sono pessimo con i nomi quindi magari magari lo conosco anche cioè non mi stupirebbe perché proprio guarda già persino il nome di Lucrezza spesso lo conosco perché beh speriamo che duri poco questa cosa il mio riesco a riconoscerlo beh dai almeno veramente lo sbaglio ma gli altri sono campioni in quelli ah questa questa è una bellissima idea che avevo già avuto anch'io sarebbe interessante far parlare un dirigente di banca per chiedere perché non vogliono far investire in cripto i loro clienti molto interessante molto interessante la questione delle banche anche magari legata a quello che sta succedendo in Svizzera dove stanno cercando di piazzare bitcoin anzi di far piazzare bitcoin all'interno mentre le riserve della banca centrale non so se ci riusciranno io la vedo un po' dura però però ci stanno provando e hanno fatto parlare comunque è sempre quello l'importante è che se ne parli e poi in Italia non ci stiamo nemmeno provando ad esempio no no zero cioè la Svizzera è proprio anni luce davanti davanti a noi e però secondo me qualcuno io spesso invito Vito Lops però Vito Lops ci parla della finanza tradizionale dei mercati qua invece sarebbe interessante qualcuno proprio io però non so se vogliano venire sai eh infatti quello che volevo dire io è bisogna trovare un dirigente di banca disposto a parlare di questo argomento faremo una ricerca ci adoperiamo perché è molto interessante effettivamente come topic io ho paura che possano avere loro paura di avere qualche ripercussione a esporsi un po' esatto esatto quindi si trova qualcuno che ha già fatto qualche dichiarazione in merito quindi ha già una posizione eh ce n'è qualcuno in Italia che ha già una posizione ma io lo lascerei perdere perché come dire un po' buttateli tipo alla Jamie Dimon ecco io lo dico io Jamie Dimon a parlare male di bitcoin perché non sa nemmeno che cosa sia non lo inviterei mai ok preferisco invitare gente che ne sa Massimo Musumeci questo me lo segno e ragazzi lo so Paolo Ardoino sarebbe eh Ardoino sarebbe meraviglioso ci possiamo provare eh ci possiamo provare ci proveremo magari ci starebbe un'intera puntata sull'estable coin perché l'estable coin certo 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 fatevi questa domanda chi non usa l'estable coin cioè non esiste sui mercati crypto sui mercati crypto non esiste non usare l'estable coin cioè c'è qualcuno che veramente usa solo euro difficile però io temo che per Tether l'Italia non sia molto interessante perché Paolo Ardoino lui è italiano che è di Genova però oramai è ceo di Tether quindi la vedo un po' difficile il professore Ametrano è ovvio che lo inviterò sicuramente quando faremo una bella puntata su bitcoin lui sicuramente ci sarà tra l'altro c'è un sacco di suggerimenti Federico non è Rivi non mi ricordo e Luca Venturini ok poi ovviamente il professore Ametrano è gettonatissimo Ametrano certo sì Vito lo inviterò sicuramente ok tanto Vito ogni tanto ci viene sul mio canale perché lo invito spesso e quindi sarà sicuramente lui e Luca Boiardi sono sicuri Giovanni Santostasi non lo conosco no nemmeno io le banche interessa solo il loro interesse ma il nostro ognuno fa il suo di interesse cioè noi facciamo il nostro e le banche fanno loro il fatto che non magari non andiamo d'accordo certo che Mario Draghi adesso io vorrei dire sì che è in Italia io però The Sky is the Limit l'importante è sognare Marco poi prima abbiamo detto Satoshi quindi possiamo dire qualsiasi cosa Mario io non so Mario Draghi non saperemmeno come contattarlo proprio e poi figura di non ci direbbe niente dai no ecco oggi non fate domande tecniche a cui rispondere perché non abbiamo tempo lasciamo perdere fa faccio così ah qualcuno fa notare che Luca Boiardi fa da consulente ad Intesa San Paolo sai che non lo sapevo allora glielo chiediamo non lo sapevo nemmeno io magari esatto magari ci riesce a portare un dirigente di Intesa San Paolo però mi devo chiedere perché perché me lo immagino Luca che entra in Intesa San Paolo magari presentandosi in stile Buterin gli dirò di filmarsi di filmarlo con il cappellino col bitcoin che ogni tanto ha eh sì sì un bancario pentito un bancario pentito l'idea è quella di cercare di vedi lo so ad esempio la cosa più vicina che c'è probabilmente è Banca Selle e Hype tant'è che Hype integra i servizi di Conio ah forse utilizzano Conio come broker probabilmente Conio già vedi io già non mi ricordo mai il nome come si chiama già il fondatore di Conio porca miseria eh no ti direi lui lo inviterò sicuramente spero che venga perché dice delle cose sempre molto molto interessanti e lui è uno che viene dalla finanza tradizionale quindi è molto è molto interessante per quello che dice Banca Sella ovviamente se c'è qualcuno che ovviamente si autoinvita non voglio sa ah Bernardo Macellani per quanto riguarda la sicurezza e tanto poi magari allora ovvio che una puntata sulla sicurezza andrà fatta soprattutto se ci saranno dei problemi certo ogni tanto ci sono i problemi quindi noi non l'auguriamo che speriamo che però siamo pronti ci siamo già preparati perché tanto sappiamo ecco visto che si guardano sempre i dati sull'etf spot di bitcoin c'è qualcuno che dà un'inchiata agli etf spot di Hong Kong se non erro esordiscono martedì prossimo il 30 dovrebbero essere listati il 30 quindi andremo a vedere però io non non sarei diciamo così troppo ottimista per il semplice motivo che guardate che Hong Kong è piccola sembra grossa ci parla di volumi molto bassi infatti quindi la cosa interessante sarà se avranno successo e se la Cina dirà allora li allarghiamo perché i cinesi sono un miliardo e quattro certo a Hong Kong se non sbaglio ci sono 7 milioni di persone non è che sono meno di quelli residenti ok sono meno di quelli che stanno in Svizzera quindi si vede Federico Rivi sì Federico Rivi interessante sarà uno di quelli che potremmo sicuramente chiamare Paolo Coletti vedi che ci sono un sacco di nomi che bello un sacco di suggerimenti anche di persone che magari dobbiamo andare a ricercare eh già questa è bellissima Draghi non si contatta si evoca a livello altissimo eh no ecco commercianti che accettano bitcoin io una volta l'avevo fatta sapete già una diretta con commercianti in realtà era un albergatore stessa cosa che accettava bitcoin quindi io direi che una volta potremmo 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 magari non legata proprio a bitcoin ma alle criptovute in generale sarebbe bellissimo chiamare qualcuno di Lugano perché a Lugano in teoria a Lugano sì si possono spendere tra l'altro vabbè Lugano ma anche a Roma anche qui a Milano ci sono attività che accettano bitcoin ah ecco sì 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 dalle mie parti no perché io sono un po' a Roma ad esempio c'è il coin bar che accetta accetta crypto accetta bitcoin noi qua a Torino primo a Torino siamo tradizionalisti proprio quelli alla grande proprio siamo rimasti ai tempi di Savoia ecco poi io sto appena fuori Torino in un piccolo paese in cui credo che una volta mi è capitato una volta sola che un mio compaesano mi fermasse per strada per chiedermi di bitcoin ma in tutti questi anni una volta sola ok quindi puoi capire come si è ammesso sì gente che accetta crypto ok vedi giustamente le banche sono delle aziende che offrono servizi a noi ma al fine di guadagnare l'oro è certo tutte le aziende offrono servizi per guadagnare l'oro poi se sono brave aiutano anche le persone ok ah Giovanni Santostasi l'idiatore del bitcoin power law ah me ne avevate già parlato una volta giusto sì adesso che me lo ricordi me l'avate già parlato sì allora probabilmente magari lo lo contatteremo scalping the bull non lo so io purtroppo lo devo ammettere non è un buon non ho un buon rapporto non credo tanto per colpa mia ok io non è che mi sia mai messo a fare tante storie eccetera però come dire non c'è un grande feeling reciproco ecco diciamo così quindi io se me lo permettete passerei perché non vorrei avere qualcuno come ospite che poi magari fa storie perché non gli piace quello che faccio io ecco anche perché poi quello che faccio io è fare comunicazione non è che faccio un consiglio analisi finanziaria andiamo avanti eccolo Christian Miccoli bravo vedi di Conio che non mi veniva mai il nome certo Miccoli sicuro che lo che lo chiami infatti un sacco di altre persone lo dicono tutti che dicono Miccoli è venuto a me in mente a tutti il nome non mi veniva a me vedi che sono proprio io che sono scato lo sapevano tutti io no che poi tra l'altro l'ho anche avuto già con me mi sembra due volte sul mio canale pensa che roba è una cosa pazzesca sto invecchiando ah qualcuno per fare delle domande su Bitcoin e Lighting Network ci sarebbe a chiamare Zucco alla fine chi vuoi chi vuoi chiamare ok qualcuno dice Tiziano Tridico ok dal 30 aprile LTF sì sono andando avanti veloce perché ci sono una marea di commenti sì ah giusto bravissimo qualche esercente della Bitcoin Valley italiana potrei anche chiedere direttamente ad Amadori perché tanto ogni tanto lo sento quindi mi piacerebbe avere qualcuno proprio della Bitcoin Valley italiana perché loro hanno un'esperienza che risale a mi ricordo quanto ma forse proprio 2017 2018 è rovereto vero? rovereto sì 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 perché io sono di quelle parti lì quindi mi ricordo quando è stata lanciata più o meno 2017 sì sì 2017 2018 tanto tempo fa sì sì qualcuno di Bitcoin Valley dovremmo anzi dirò di più se facciamo una puntata sull'adozione sulla spesa uno della Bitcoin Valley bisogna averlo per forza ecco io credo chiedo chi chiederò alla Madò Andrea Andrea Bigarani altro nome che non conosco giustamente qualcuno dice rovereto è la capitale cripto ci sta ah qua non c'è una domanda centra niente però voglio rispondere velocemente la SEC accetterà le TF su Ethereum a maggio io sono un po' scettico perché la SEC in questo momento non lo so tu cosa ne pensi? beh allora più ci avviciniamo alla deadline di maggio più gli analisti diventano un po' meno certi nelle loro dichiarazioni quindi prima bisogna avere diciamo un green light dalla parte della SEC sul fatto che Ethereum non sia un security e poi e poi se ne può parlare quindi bisogna vedere loro sostengono che è una security perché dovrebbero approvare le TF probabilmente si andranno per tribunali eccetera di nuovo Massimo Rea giustamente qualcuno chiede dice Francesco Carrino sì direi che Carrino si può tranquillamente invitare qualche volta so che è anche andato ospite in qualche altro canale cripto quindi sicuramente ah ecco Musumeci per Lighting Network questo ce lo siamo ho esaurito tutti i commenti un sacco di suggerimenti comunque un sacco di ospiti allora noi abbiamo un appuntamento a settimana e non è che potremmo ospitare 400% in un'ora non è che si può fare chissà che cosa io credo che avremo più o meno due o tre ospiti a volte a volte perché poi per carità uno può anche immaginare di allungarci un pochettino solo che dovete sapere le 21 e 30 per me sono già un orario già esageratissimo e io dopo le 21 e 30 mi riesco a sbettare per queste ripie e così ah vedi giustamente Paolo Coletti è un professore che conosce tutti quelli da Bitcoin Valley allora sì allora probabilmente lo dovremmo assolutamente a chiamare vi voglio aggiungere ancora un particolare che è interessante e che trovate sul sito web Crypto.it tra l'altro il sito web se volete basta cercare Talkshow Crypto su Google e viene fuori perché l'ho già fatto indicizzare io ho creato anche un canale Telegram che si chiama Crypto.it sia perché in realtà trasmetterò la diretta anche lì infatti in questo momento io probabilmente spero che forse sto provando a trasmettere su Telegram però mi sa che sto giro non ci sono riuscito vabbè questa era la prima prova però spero di riuscire a trasmettere ma più che altro il canale Telegram serve a noi è un canale quindi ci posso scrivere solo io per avvisarvi degli ospiti prima così almeno voi sapete chi è che viene vi preparate le domande eccetera eccetera quindi iscrivetevi al canale Telegram perché è il modo migliore per essere aggiornati sugli ospiti proprio perché c'è una puntata a settimana e quindi dovete venire lì a fare le domande questa è bellissima infatti vai a dormire e lasciasi con Lucrezia allora io sinceramente alle nove e mezza andrei volentieri a dormire perché oramai poi mi alzo presto e inizio lavorare presto e potrei anche farlo perché però poi dipende ma sei il mio aiuto a regia poi io come faccio poi sono un caso Silvio Micali e di Algorand bravo bellissimo suggerimento questo mi piacerebbe molto vero Silvio Micali sì è vero non so se io non ho ancora ben capito quanto Algorand il progetto Algorand si è interessato alla situazione italiana eccetera però magari ma mi sembra che è già andato ospite da qualche da qualche canale quindi anzi sì me lo segno molto molto interessanti Stefano Capaccioli ovvio che che lo inviterò poi sai lì bisogna sapere se ha disponibilità eccetera io comunque una puntata sulla fiscalità la farò poi io conosco già un po' di commercialisti che sono stati anche mispostore eccetera quindi insomma non abbiamo problemi a invitare commercialisti cripto quindi questa è una cosa che a me stupisce sempre quanto agli italiani piaccia la fiscalità cripto nel senso ogni volta che faccio una puntata sulla fiscalità cripto alle domande su domande perché è difficilissimo quindi bisogna capire la gente cerca di comprendere una puntata non basta mai di solito perché io allora io faccio fare tutto il mio commercialista perché guarda ogni volta che madonna mi attacca un magone poi quando arrivano gli F24 il commercialista altro che magone però non mi appassiona il tema però vedo che appassiona infatti io non penso che sia tanto per passione quanto per necessità questo interesse perché le passioni sono altre è una questione di cercare di comprendere come funzionano altre cose e spiegarla a un commercialista esperto è un piacere già è complicata e non serve più al corante ah mi interessa comunque lo chiamiamo del stesso Riccardo Giorgio Frega che non conosco il progetto GRASS io non lo conosco per caso tu l'hai mi ha sentito nominare l'ho letto l'altro giorno da qualche parte sto cercando di ricordarmi dove l'ho letto mi sa che è un progetto che stanno oscillando forse su X non lo so l'ho letto anch'io da qualche parte mi sa su X io sono un po' dubbioso ve lo dico io sono un po' dubbioso a parlare dei progetti proprio nella fase iniziale per un motivo molto semplice che spesso nella fase iniziale non c'è nulla di concreto di cui parlare si parla tanto di idee prospettive eccetera e io non vorrei che si trasformasse in propaganda non vorrei che nessuno venisse a scillare niente quindi io preferirei occuparmi d'altronde io faccio quello mi occupo di fatti per lavoro e quindi ho quella tara mentale preferisco quindi parlare di quei progetti che hanno già dimostrato qualche cosa e quindi si può parlare di qualcosa di concreto ah vedi mica è stato ospite di Michael Beetleops perfetto ma nei vizio giusto sono anche stati i miei ospiti potrei una volta richiamarli anzi sicuramente li chiamerò e la diretta streaming su telegram oggi non ci sono riuscito la farò a partire se ci riesco perché ci sono quasi riuscito giovedì scorso nel senso che è andata relativamente bene non benissimo sto prendendo confidenza con questo strumento però si può trasmettere in diretta su un canale telegram e in teoria il talk show andrà in diretta anche sul canale telegram di di Cryptalk.it ecco Andrea Russo di Cryptofisco sì va benissimo sempre vedi vedi quanti tutti preoccupatissimi tutti preoccupatissimi allora c'è da dire anche una cosa sulla fiscalità che chi fa poche operazioni qualche non so qualche operazione al mese vabbè si mette lì si fa i calcoli eccetera ovvio che però chi fa vero trading intraday c'è un casino pazzesco uno che c'ha 10.000 transazioni in un anno come fa non lo fai da solo non lo fai da solo sicuramente ecco guarda questa domanda te la devo passare ti piace più il mare o la montagna non lo so perché mi va a me piace la montagna lo so che non ti piace io sono nata in montagna mi piace il mare ma con l'età ho riscoperto anche la montagna d'estate non è male e la montagna d'estate è tanta roba vedi vedi ma dai questa domanda te la faccio io ma dove cioè quale montagna Trento io nata origine di Trento quelle sì che sono belle montagne anche quelle dalle nostre parti sono belle però comunque lì diciamo che il Trentino e l'Alto Adige sono un po' più bravi a far turismo noi dalle nostre parti non è che siamo bravissimi non hai avuto modo di venire a esplorare sì ma vabbè probabilmente saresti delusa perché se sei abituata non me la vendi bene così no se sei abituata al Trentino e vieni qua in provincia di Torino è proprio un livello più basso cioè non dovrei dirlo perché io sono di queste parti dovrei fare pubblicità eccetera però però tanto l'estate la montagna è bella a prescindere che te frega cioè vieni parti vai a farti le passeggiate vabbè l'agenzia del turismo del Piemonte non sarà mai uno sponsor di Cryptalk spero che non ci sia nessuno che mi stia guardando di quelli che conosco sulla montagna perché sennò poi domenica che vado allora il progetto The Pin ecco questo sicuramente i progetti The Pin perché se non sbaglio è una tecnologia potrebbero essere un argomento perché è qualcosa di molto fresco di molto nuovo io però non avrei idea di chi invitare perché qua stiamo già parlando di cose che sono già un po' difficili ok e Solana certo ovvio su Solana la faremo prima o poi la puntata ci ne avevamo parlato anche quando stavamo facendo il brainstorming adesso magari adesso forse non è ancora proprio il momento perché insomma il boom di Solana c'è già stato ok però tanto magari ce ne sarà un altro e quindi Filippo Angeloni e sì Filippo lo inviterò dai una volta sicuramente perché è già venuto un sacco di volte sul mio canale ok ecco ci toccherà fare anche una puntata sulle meme coin e beh certo è comunque è comunque un vertical che attira tanta attenzione e tanti soldi quindi è giusto parlarne e poi è un tema che è sempre in questo momento magari sono un po' rientrato un po' meno se cosa ho letto ho letto che Coinbase ha aggiunto i Perpetual su Pepe allora io quando oggi ho letto questo ho detto ma perché ma poi fanno gli fa la storia la Secchi gli fa storia e per forza aggiungi per pezzo e poi ovvio che la Secchi viene a dirti lo stai vedendo le security lo ha registrato ok andiamo avanti io Giovanni dice io sono talmente appassionato alla Fiscalità che sono emigrato all'estero ammetto che io ci sto pensando io non vedrei l'ora poi come dicevo io sono un montanaro dentro io andrei in Svizzera a parte che c'è a Lugano a parte che io lavoro per i Cryptonomist e di Lugano già lì ecco poi a Lugano puoi spendere criptovalute quindi senza stare lì a fare carte eccetera e poi in Svizzera è pieno di montagne quindi purtroppo io non ci riesco non so se anche tu non vedi l'ora di andarti dall'Italia ma allora dipende perché comunque io che ho vissuto fuori poi vivendo fuori ti rendi conto che comunque noi italiani ci lamentiamo ma in Italia si sta bene che comunque in Italia si sta bene quindi vedremo vedremo Dubai non mi attira se devo essere sincera però a chi lo dici c'è il mare c'è il deserto io proprio per me l'inferno io poi sono vivo in pianura ok sono proprio un cittadino però c'ho proprio dentro questa quest'anima montanara che sai ai veri montanari il mare spaventa cioè andare nel mare oh guai mangiare il pesce se sei la trota quella di montagna allora quella va bene qualche parlamentare del governo italiano sì molto interessante tra l'altro o comunque non necessariamente un parlamentare c'è qualcuno che contribuisca o che stia contribuendo a qualche diciamo legge o consultazione che riguarda le cripto molto interessante questo sì io in realtà ne conoscevo uno che tra l'altro era proprio del partito della Meloni che è quella che ha fatto perché di fatto la legge adesso che c'è in Italia l'ha fatta lei con la legge di bilancio quella approvata al fine 2012 mi sembra 2022 però in effetti adesso credo che sia chiusa la questione però sarebbe sempre interessante vedere qualcuno che ci dica poi secondo me non ci dicono niente lo stesso però questo è un altro discorso qualcuno che ne parli comunque o che ne sappia qualcosa ed è lì dentro è nella stanza dei bottoni come si dice a proposito della comparazione con la Svizzera sarebbe bellissimo avere il sindaco di Lugano eh sì cioè avere il sindaco di Lugano come rappresentante della politica svizzera e poi un italiano come rappresentante della politica italiana però un italiano un politico italiano che ne sappia di gritto non quello che se ne esce quelle solite cose allora se parlate di Solana ci vuole benetazzo ovvio io sicuramente lo inviterò io tra l'altro sono andato su ospite un sacco di volte quindi prima o poi dovrò restituirgli il favore perché mi ha ospitato talmente io non l'ho ancora mai chiamato perché non ho mai fatto una coda su Solana ma lo invito sicuro eh aziende che fanno riscaldamenti mining bitcoin cioè che tu dici che usano il mining per riscaldare vabbè tra l'altro io conosco anche qualcuno di qualche azienda che fa mining in Italia proprio dalle parti del Trentino eccetera quindi ahi ragazzi di Alps Blockchain eh sì anche io li conosco molto bene loro li conosco molto bene molto in gamba loro sono una realtà italiana veramente con uno sguardo internazionale pazzesco li conosco molto bene perché sono di Trento eh quindi li chiamiamo sicuramente li chiamiamo assolutamente Francesco e Francesca ecco Gaspari no eh no proprio no Gaspari no lo invitiamo mi spiace poi insomma non so se se mi ha bloccato su X ma credo di sì addirittura cosa gli hai fatto ma gli ho mandato un commentino niente di che però non potevo star zitto cioè quando si fa quelle uscite mi ha invitato praticamente tra l'altro a me mi ha boccato anche Craig Wright questa cosa è bellissima ahia non è che cioè allora Craig Wright se ne va a cercare ok poi è ovvio che quando Fast è uscito poi adesso l'hanno bastonato di brutto però quando si faceva quelle uscite in passato è ovvio che tu gli andavi a commentare anche solo scrivendo fake Toshi no ma lui è bloccato non la prendeva molto bene però non è grave essere bloccato da Gaspario da Craig Wright andiamo avanti ah vedi lo Svizzera costa un sacco e lo so è che la Svizzera costa un sacco poi io frequento anche un pochettino i confini con la Svizzera quindi questa non la conosco Isla Margherita Venezuela il nuovo paradiso del futuro stanno costruendo comunità tu ne hai sentito parlare no Isla Margherita no Isla Margherita non ne avevo sentito parlare ho sentito parlare di Palau poi adesso c'è il Paraguay che si sta anche muovendo però Isla Margherita no non l'avevo mai sentita è che io sono un po' scettico sul Venezuela perché vabbè sì Venezuela ha fatto quella famosa finta criptovaluta eccetera però sono un po' scettico sul diciamo sul fatto che il regime venezuelano possa andare d'accordo con la libertà per il cliva politico tu dici quindi un po' complesso cioè allora la Svizzera ci sta perfettamente che abbracci le criptovalute perché la Svizzera è un paese in effetti liberale da tutti i punti di vista invece i paesi un po' autoritari come possono accettare che la gente prenda e sposti denaro così avanti indietro in maniera ononima senza star lì vabbè comunque giustamente qualcuno dice sto a Miami si sta benissimo vabbè però stai a Miami cioè Miami sul mare ma magari mi andrebbe bene persino a me esageriamo però la Finlandia davvero inizia ora in grande la Finlandia non ho che l'Estonia ok va bene la Lituania ok ma sulla Finlandia io non ho mai sentito dire niente di particolare in ambito cripto io ho sentito parlare molto bene della Finlandia da un sacco di persone che ci sono state e quindi immagino che potrebbe anche essere un paese cripto friendly ecco però per ora non l'ho mai mai sentito dai allora direi che possiamo chiudere qua perché si stanno avvicinando le nove e mezza Marco si gli altri iniziano a spegne si piacciono e così ok allora ricordatevi martedì 7 maggio iscrivetevi al canale telegram di Cryptalk perché così io lì vi scriverò quali sono quali saranno gli ospiti voi però se vi vengono in mente idee oltre tutte quelle che mi avete mandato adesso mandatemi via mail info chiocciolamarcocavicchioli punto it così poi io e Lucrezia la prossima settimana ci organizziamo e vediamo di creare fuori una buona idea e poi fare una bella prima puntata col botto avevamo fatto un po' di brainstorming su con cosa iniziare però stasera ci hanno surclassato perché eh sì però siamo andati su chi intervistare non tanto gli argomenti quindi bisognerà poi scegliere gli argomenti e capire chi incastrare negli argomenti e anche perché secondo me il punto chiave in realtà sarà quello cioè saranno gli argomenti poi gli ospiti li legheremo agli argomenti però ecco forse in effetti sto pensando il 30 esordiscono gli etf a Hong Kong quindi ma il 7 sono 7 giorni dopo uno potrebbe anche pensare di fare una puntata su quello e magari invitiamo Vito Lops subito però il problema di Vito è che bisogna dirglielo un po' di tempo prima perché poi lui è organizzato e quindi non so se c'è tempo comunque magari poi io inizio a provare a suggerirglielo allora io ovviamente ringrazio Lucrezia per essere stata presente grazie a te Marco tanto poi per tre mesi ci vedremo una volta ci vedremo tutte le settimane grazie anche a voi che ci state guardando e tra l'altro vi invito a andare a seguire Lucrezia e in particolare Cryptoland esatto è un podcast che trovate un po' dappertutto si trova sì Cryptoland si trova su tutte le piattaforme podcast basta cercare Cryptoland e se invece ci volete seguire sui social quello su cui siamo più attivi è Instagram ci trovate come Cryptoland Podcast oppure su X come Cryptoland underscore perfetto grazie mille allora un saluto a tutti buona serata a tutti e ci vediamo martedì prossimo ciao ciao